aaaah madonna, rimuovi il dispositivo cos'è? cos'è questo vibra? il bridge basta risoluzione problemi di proprietà hardware dispositivo di input USB ma che cristo che cos'è? minchia ho un porto di computer va allora è un ponte del computer è tipo il ponte dei denti minchia ma sta con tutti cristo di caca aspetta che riavvi il computer nooo come riavvi il computer no non ce n'ho voglia di riaviarmi minchia signor tenente ma c'è anche una bella canzone che fa minchia signor tenente ah si scarico spotify per allevare il computer ma cosa? hai fatto? microphone muted microphone activated no io lo voglio scaricare ce l'ho già addio vedi con facebook dai che tra poco devo andare dai che tra poco devo andare minchia ma c'è Big Kids rotto in culo madonna c'è ho capito che sei scollegato che poi nemmeno lo sento che magari torna no ah si si scollega sempre c'è ti posso dire una cosa? ti posso dire una cosa? cosa? saluto youtube guardalo che continua no no non stai registrando si stai sto letteralmente morendo peccato che ho iniziato in ritardo a registrare perchè vabbè sono dieci minuti che stai sclerando questo sto cosa che non riesci a capire così guarda aspetta aspetta ti rendi conto di cos'è questa merda? si si ha capito ma non puoi tipo disabilitare i… noh perchè sennò si Ancient mo disabilito la scheramadre disabilito il suono cosi non sento te non sento un cazzo di niente segnali acustici aspetta GG allora ci vediamo potrebbe essere qualcosa di infausto ci vediamo al prossimo video mi vaffanculo